Salvia, rosmarino, echinacea e menta, piante aromatiche curate dagli studenti dell'Istituto della Rovere di Urbagna che questa mattina assieme ai ragazzi pesaresi dell'Agrario Cecchi sono state piantumate nel giardino della scuola dell'infanzia Gulliver di Muraglia. È l'inizio del progetto Seminiamo il futuro insieme per il cambiamento, un progetto che parte dall'anima verde della mostra del cinema di Pesaro e che assieme a Marche Multiservizi si concretizza a beneficio ambientale ed educativo delle scuole comunali pesaresi. Questa mattina sono state piantate le prime 10, altre 140 arriveranno nelle altre scuole dell'infanzia e nei nidi di Pesaro. Il festival ha un'anima verde, un'anima verde che è perfettamente in linea con quella del main sponsor, Marche Multiservizi, con il quale ci siamo ritrovati già dall'anno scorso a condividere delle riflessioni su alcuni temi relative alla sostenibilità. L'anno scorso abbiamo regalato a tutti i nostri ospiti, collaboratori delle borracce, installato degli erogatori d'acqua per spingere il consumo di acqua dell'acquedotto e quindi azzerare l'utilizzo di bottigliette di plastica. Quest'anno abbiamo pensato di più all'anima prettamente verde, quindi le piantine. Le piantine sono state oggetto di omaggio per tutti gli ospiti del festival, ma sapendo che molti dei nostri ospiti vengono da lontano e avrebbero avuto difficoltà poi a ripartire con le piantine, abbiamo deciso che tutte le piantine rimaste le avremmo donate alle scuole del comune, alle scuole primarie, alle scuole dell'infanzia. Insieme alle scuole, agli istituti superiori, il Cecchi di Pesaro e l'istituto agrario di Urbani, mettendo in collegamento anche i sistemi educativi costa e dentro terra, cercando di trasmettere questo amore per l'ambiente che Marche Multiservizi ha e che vogliamo ricordare. Queste iniziative per noi sono importanti perché abbiamo passato un periodo dove si parlava di altro, in realtà noi vogliamo tenere il focus sulle tante iniziative che Marche Multiservizi fa in termini di economia circolare, di rispetto dell'ambiente. Questa piantumazione, questo segnale voluto dalla Mostra Internazionale del Cinema verso le nostre scuole comunali è un segnale di amicizia, è un segnale gentile, ieri era la giornata internazionale della gentilezza e oggi continuiamo con atti di gentilezza, un segno tangibile appunto per i bambini e le bambine di tutte le scuole della città, ma anche per i seminatori, i ragazzi degli istituti agrari che si sono prestati in quest'azione di piantumazione e chiaramente Marche Multiservizi che è sempre al fianco dell'amministrazione. Gli stessi ragazzi di Urbania si sono preoccupati di redigere un piccolo documento in cui è scritto come curare le piante e questo documento è stato tradotto anche in CA nella comunicazione aumentativa alternativa che consente anche a chi ha delle difficoltà nell'apprendimento di poter leggere le istruzioni e quindi poter curare le piante, un progetto di cui siamo veramente molto orgogliosi.